E qui ci saranno dei cambiamenti. Non vedo l'ora. Ok, le cose più urgenti. Envirotech West Management, che cazzo è? Ci costa un mucchio di soldi. Tuo padre fa smaltire i rifiuti chimici in modo responsabile e questo costa qualche soldo in più. I boliviani lo faranno a un terzo del prezzo, quindi useremo loro. No, non puoi usare loro. Perché? Perché quelli metteranno in pericolo migliaia di residenti. No, e che me ne frega, qualche membro delle tribù locali si becca il cancro e pace. Non ci sono tribù lì, è una società moderna. Tu credi che me ne freghi qualcosa? Senti Bob, tuo padre mi ha detto chiaramente che preferiva morire che risparmiare a spese delle persone. Indovina un po'. Alla fine ha ottenuto quello che voleva. Ok, che altro? Ah sì, dobbiamo eliminare un po' di grassi. Che vuol dire eliminare i grassi? Licenziare i ciccioni, semplice. Cosa? Sono pigri e lenti e guardarli mi intrestisce. Comincia con l'Argio Margio. Margio, puoi venire per favore? No, Margie, non è grassa, è incinta. Non la puoi licenziare. Ah, va bene. Resta pure là, Margio. E auguri. Non la puoi licenziare.